Dylan Dog 418 Biss, dal titolo Quertin Tongue, quando l'old boy non basta. Wabalabadabdab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica dedicata all'indagatore dell'incubo per quanto riguarda soprattutto la serie regolare, anche se c'è qualcosa di strano, è già uscito il 418, se non sbaglio era dedicato anche alla canzone Sally di Vasco Rossi, eppure questo album non è il 419, che tra l'altro sarà sempre dedicato a un'altra canzone di Vasco Rossi, no, ebbene sì, è il 418 Biss. Vediamo come hanno reagito i detrattori del nuovo corso di Dylan Dog alla notizia che nella loro collezione di Dylan Dog ci sarà un numero un po' sfalsato, ovvero il 418 Biss. A me va bene tutto, però il 418 Biss, no, 418 Biss, no. Recchioni, no. Recchioni, no. Recchioni, no. Scelte di Recchioni questa volta proprio. Recchioni, no. No, Recchioni, no. No, 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 no. No, 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 no. Recchioni, no. Obiezione sacrosanta quella di molti haters sul fatto che Dylan Dog, che molte persone ormai comprano quasi per collezione, abbia un numero stranissimo, un 418 Biss e non un Dylan Dog speciale o un fuori serie piuttosto che, ma c'era dire che questo, diciamo, questa operazione va ben oltre e va anche ben a Fleck Dylan Dog. Eh sì, perché ogni, o qua, ogni, quasi, ogni numero Bonelli ha un Biss in questa estate caldissima, come diceva Max Pezzali. Perché? Per festeggiare gli 80 anni della Sergio Bonelli Editori. Quindi avremo un Nathan Never Biss, un Dylan Dog Biss, che è quello di cui vado a parlare, uno Zagor Biss, un Tex Biss e un Drago Nero Biss. Quindi non è colpa di Dylan Dog, non è colpa ovviamente di Recchioni, tant'è che stona un pochino. Perché stona un pochino? Perché se doveva esserci un albo Biss, un albo fuori serie, secondo me sarebbe stato più corretto che fosse quello di Vasco. Anche perché molto probabilmente questo Biss, tra qualche tempo, potrebbe anche valere, proprio perché è strano come numero. E sarebbe stato unire l'utile al dilettevole, farci stare il Selly di Vasco come albo Biss. Perché non lo hanno fatto? Perché ovviamente il Selly di Vasco è solo uno di tre numeri, quindi vedremo altri due mesi con Vasco Rossi alla guida, diciamo, di Dylan Dog. Di conseguenza non si poteva fare un solo 418 Biss, ci sarebbero dovuti essere stati altri due Biss e non avrebbe avuto senso. E quindi Quertington finisce come storia Biss del mese di luglio. È uscito il 15 luglio, esattamente alla metà del mese, ed è per questo motivo che questo mese, per chi mi segue sul canale, non uscirà la mia rubrica Retro Dylan, perché andrebbe a finire troppo a ridosso dell'uscita regolare del 419. Quindi il mese prossimo uscirà regolarmente a metà del mese il mio numero sul Retro Dylan. Al di là di queste note più editoriali che intrinseca la storia di per sé, la storia è anche molto molto bella. A me, devo dire, è quasi piaciuta, non dico più di Selly, è tutto un altro tipo di storia, una storia davvero strampalata al sapore di Golconda. Come Recchioni stesso dice nel suo editoriale, che ormai non cita più lo spirito sumero nel frigo dei Ghostbusters, ma parla di un generico zombie, dice che Luca Vanzella, che è l'autore, e Luca Genovese, che è il disegnatore, sono una coppia assodata quando devono lavorare insieme, ma che hanno già lavorato con Dylan Dog nel Colorfest, quindi finalmente degli autori nuovi vanno a finire sulla testata regolare, che è quello che io voglio vedere d'ora in poi, diciamo, voglio, diciamo, carne fresca sulla serie regolare del Dylan Dog. I disegni sono netti e lineari, la griglia è abbastanza classica e inizia subito nel vivo, non c'è un intro, c'è una cliente direttamente nello studio di Dylan Dog, e devo dire che una narrazione di questo tipo mi piace davvero tanto. Abbiamo un Dylan Dog, tra l'altro, che una volta tanto ha un minimo di spirito investigativo, quindi non si affida soltanto al suo quinto senso e mezzo, ma a un paio di, diciamo, colpi di genio da investigatore privato le ha, soprattutto all'inizio della storia, poi chiaramente il numero stesso lo porta a confondersi. Abbiamo anche un graucio molto centrato, come piace a me, ovvero che fa battute ma che non è fuori dal mondo, ovvero che è all'interno della storia e collabora attivamente allo svolgersi della storia. La cittadina del Galles, dove vanno a finire appunto Quertington, è davvero stranissima. Mi ha ricordato Golconda, ma si va sul surrealismo più completo a un certo punto, al punto che in certi momenti ti viene da pensare che sia scritta male la storia, ma in realtà non è così. ti vuole davvero portare sul surrealismo più completo. Nella scena in cui c'è un'impiegata che accarezza un coniglio e il suo assistente è un coniglio che accarezza l'impiegata, davvero io non ce l'ho più fatta, sono esploso dal ridere. È totalmente assurdo questo numero. La cosa bella che mi è piaciuta è anche il metalinguaggio del numero in sé. Questo è il 418 bis e in questo numero siamo in un paesino di provincia dove la pioggia può causare doppelganger, può causare dei sosia, dei bis. È come se Quertington stesso abbia causato l'uscita bis di Dylan Dogg questo mese. Se l'ha pensato in questo modo è un metalinguaggio fantastico. Non ho una cultura letteraria così ferrata da dirlo per certo, ma sicuramente ci sono dei riferimenti a Lovecraft e a Cthulhu. Si vede una chiesa tentacolare che sicuramente fa riferimento a una setta di adepti di Cthulhu e questo potrebbe spiegare anche la stranezza di questo posto. Quando Dylan non si rende conto se sta vivendo a Quertington da pochi giorni o da mesi mi ha ricordato in un certo senso Il giorno della marmotta, titolo italiano e Ricomincio da capo, film con Bill Murray in cui lui deve rivivere ogni giorno la stessa giornata, film che poi è stato rifatto anche da Antonio Albanese dal titolo È già ieri. Ve li metto sempre in descrizione nei miei link Amazon così ve li gustate perché sono film che meritano davvero, soprattutto quello con Bill Murray che è quello diciamo originale. Ma anche il tentativo costante di Dylan Dogg di scappare dalla città di Quertington mi ha ricordato quella scena famosissima in cui Truman, in Truman Show, cerca di scappare dalla sua isola e trova il traffico improvviso, trova la tempesta, trova il traghetto che è chiuso. Mille scuse per non farlo uscire dalla città. Se non avete visto questi due film vi consiglio di recuperarli assolutamente. Vi consiglio anche di recuperare The Father, un film straziante che parla dell'Alzheimer di cui ho fatto una recensione che vi metto qua nelle schede e qua in descrizione. Ovviamente qua Dylan non ha l'Alzheimer ma il fatto che questo posto ti confonda i ricordi, ti faccia pensare che siano trascorsi pochi giorni, in realtà sono trascorsi dei mesi e lo si legge dal punto di vista della persona che è confusa, in questo caso Dylan, mi ha ricordato molto la regia di The Father. Quindi vi consiglio anche quel film, andatelo a vedere se è ancora al cinema. Se no, non appena uscirà in DVD vi metterò qua in descrizione il link per acquistarlo. Il finale è tra quelli più assurdi, più sclaviani che mi potesse venire in mente. Devo dire che un pochino lo avevo intuito anche alla luce del fatto che appunto la pioggia causa Doppelganger. Abbiamo visto un Doppelganger di Dylan Dog e a un certo punto la macchina è sparita e soprattutto anche Graucio è sparito lasciando Dylan abbandonato al suo destino. una cosa molto strana per Graucio, a meno che appunto non ci fosse stato un altro Dylan da portare a casa. E quindi infatti la storia finisce proprio con Dylan che si scopre essere un Doppelganger, si scopre essere un clone se così vogliamo. Peccato, occasione mancata, occasione sprecata, quando Dylan fa una battuta sul fatto che spera che la pioggia non abbia sdoppiato Graucio, perché ne è abbastanza uno di persone come lui, poteva esserci un riferimento al Graucio cattivo della serie 666. Quella sarebbe stata carina come riferimento. Dal momento che hanno usato anche un altro riferimento alla serie 666 quando Dylan lavorava nel cimitero o quando hanno mostrato i quadri con Morgana, Xabaras e Block e Graucio, hanno detto che Block è il padre adottivo, quindi è un Dylan inserito nel soft reboot. Potevano anche dire, ah, speriamo che la pioggia non causi un altro Graucio, perché di Graucio doppi ne ho già avuti abbastanza, una cosa del genere diciamo, un riferimento al fatto che potrebbe sdoppiarsi un Graucio e potrebbe tornare il Graucio cattivo. Quella sarebbe stata una genialata che peccato non hanno citato. Mi sono piaciuti molto i riferimenti anche ad altre opere, tra cui un personaggio che assomiglia in tutto per tutto a Paperon de Paperoni, che tra l'altro porta in giro un'anatra. C'è già stato un omaggio alla Disney in Dylan Dogg, in un Old Boy, vi metto sempre qua il video qua sotto e qua nelle schede così andate a vedere di quale Old Boy sto parlando. E mi è piaciuto anche il riferimento all'orrendo film di Dylan Dogg, quello del 2010 con Brandon Routh, in cui Dylan possedeva un maggiolone nero con la cappotta bianca. A un certo punto Dylan Dogg non trova più il suo maggiolone e ne prende uno, che è speculare ai colori del suo maggiolone. Tra l'altro anche alla fine, tra i vari doppelganger di Dylan Dogg, c'è un Dylan Dogg che ha i colori invertiti, che ha la camicia scura, la giacca bianca, queste robe qui. Mi è piaciuto tantissimo. Ha ricordato anche un pochino come disegnavano Francesco della Morte nell'albo Orrore Nero numero 3, ovvero con la camicia scura e la giacca bianca. Fondamentalmente Quartington è il classico paesello di provincia, rappresentato in questo modo orrendo, nel senso che c'è l'orrore, dove tutte le persone che hanno avuto una brutta esperienza, un'esperienza strana, preferiscono rifugiarsi in un paese stranissimo, con le sue piccole regole, con le sue idiosincrasie, ovviamente qua portate all'eccesso, piuttosto che vivere nel mondo, quindi nella società aperta, nella città. Preferiscono rifugiarsi in un paesino di provincia e vivere queste assurde regole perché hanno avuto una brutta esperienza nel mondo esterno, un po' come se andassero a condurre una vita monastica in un paese di poche anime. Messaggio carino, ma che viene schiacciato totalmente dalla bellezza della storia in sé, che è totalmente stralunata, quindi si sente di più l'aspetto surrealista della storia, che non il piccolo messaggio che è giusto messo lì perché va bene. Però devo dire che è un numero promosso a pieni voti, un numero che non ha neanche tantissime pretese rispetto appunto al Sally di Vasco e ai prossimi due che sicuramente dovranno avere la pretesa, hanno diciamo l'onere di dover accontentare i fan di Dylan, i fan di Vasco, di non scontentare nessuno e quando c'è così tanta pressione qualcuno verrà sempre scontentato. Questo Quartington invece, tranquillo tranquillo, si porta a casa la giornata, fa un ottimo lavoro, ve lo consiglio da leggere sotto l'ombrellone ma anche da tenere come numero da collezione. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Ok ragazzi, sono pronto a girare. Ma... ma qui sta andando? Ma sta andando da 15 minuti? Ma chi è che ha registrato? Ma... Ma qualcuno qua ha già registrato, ragazzi? Buongiorno... Grazie.